Il passaggio di Cosmo Tedeschi tra i banchi del centrodestra nel Consiglio Comunale di Isernia ha mandato su tutte le furie il deputato Danilo Leva che ha colto la palla al balzo per tornare a chiedere le dimissioni della segretaria regionale del PD Micaela Fanelli. L'affondo del parlamentare pubblicato su Facebook non risparmia neppure il governatore Paolo Frattura che non può restare in silenzio altrimenti è complice o fautore di questo spettacolo politico indecoroso. Nel suo post l'onorevole Leva ha scritto poi Ieri Cosmo Tedeschi ha annunciato il passaggio in maggioranza con D'Apollonio inutile dire che si tratta di una banalissima quanto annunciata chiusura del cerchio. Non l'ha capito solo il segretario regionale del PD e insieme a lei l'intero gruppo dirigente regionale che in campagna elettorale l'hanno sostenuto in ogni modo possibile non sono stati capaci neppure di rimuoverlo da un incarico di segreteria e in più di un'occasione hanno auspicato addirittura che il miglior ballottaggio possibile fosse tra la Formichelli e Tedeschi. Ora, se il PD fosse ancora un partito, la Fanelli dovrebbe dimettersi e chiedere scusa con umiltà ma siccome ormai lei stessa ci ha ridotto ad una sommatoria di comitati elettorari resterà al suo posto. Peccato che a dimettersi sono stati già gli elettori i quali ormai ci abbandonano in numero sempre più cospicuo ma questo si sa, che nella stagione politica in cui viviamo non conta più nulla l'importante è l'adorazione del potere quale strumento di sistemazione di una serie di interessi personali. Chi di fronte a tutto questo resta in silenzio, ha continuato Danilo Leva a partire dal governatore regionale, complice o peggio ancora fautore di un disastro politico che regalerà il centro-sinistra a un ruolo del tutto marginale nella nostra regione.